Ciao a tutte, questo è un video velocissimo degli acquisti dell'ultimo periodo, ovviamente in questo periodo di assenza ho fatto diversi acquisti per i bambini, ovviamente la maggior parte sono già stati lavati e utilizzati, quindi non ha senso mostrarveli, però quelli più recenti li ho tenuti un attimo da parte, è complice il fatto che le giornate non sono ancora bellissime e comunque i bambini hanno diversi cambi, ho conservato appunto i vestiti per mostrarveli, così adesso profitto del fine settimana per lavare, stirare e riordinare tutto, sono misti, vi dico dove li ho acquistati e ovviamente sono anche di taglie diverse, allora questo è un abitino con i leggings in coordinato in questo modo e l'ho preso su Allegri Briganti, credo di averlo pagato 19 euro, insomma o 10 o 20 euro, l'ho preso perché mi sembrava grazioso, il cotone è morbido, insomma non mi dispiace, questo è un tre mesi, è carino ma non particolarmente impegnativo, tenete presente che ho preso tutte cosine da mettere diciamo tutti i giorni, una serie di magliettine da bimba che ho preso su chiabi, tre mesi a 1,99 euro, adesso si sono tutte stropicciate, però sono graziosissime, dove le volevo mostrare, allora questa mamma e papà più me uguale amore, quella che sentite è lei che si lamenta sulla sdraietta perché ama stare in braccio, è abituata a stare in braccio, questa qui sembra la più bella, sei mesi però non potevo resistere, era proprio graziosissima, anche il colore mi piace molto, poi sempre della serie delle magliettine a 1,99 euro c'era questo bellissimo fucsia, poi ti fai sentire, sempre per la bimba un giallo molto estivo, scusate, ho scritto love mom, love dad, smile, happy, insomma tutte piuttosto allegre, poi sempre magliettine appunto per avere il cambio, sempre tutte 1,99 euro, quindi proprio da battaglia diciamo, 6 mesi papà forever, e poi c'è una serie di complizioni perché se non sbaglio le magliettine sono finite, allora, sono tutti completini che sono costati veramente pochissimo, questo 5,99 euro, maglietta con un cuoricino, appunto piccola applicazione a fiocco, e pantaloncino, stessa cosa, quindi maglietta sbracciata, chiara, papà forever, e questo grazioso pantaloncino a foie, poi stesso stile, quindi sempre magliettina col fiocchetto, con scritto princess, sempre 5,99 euro, il completino con il pantaloncino, con questo tema appunto un po' marino, e queste qui sono diciamo le magliettine, poi ho preso delle magliette giustamente per il fratello, adesso sposto un attimo queste, per il fratello, ho preso questa magliettina, pensavo che l'applicazione fosse un po' diversa, lo sapevo te, però è comunque carina, per 3,99 euro va benissimo, visto che quando torna dal parco è veramente conciato male, quest'altra con il portacellulare diciamo, e queste applicazioni sono quelle un po' plasticose, però sono piccine, a parte appunto gli occhiali, insomma non sono particolarmente esagerate, non mi facciano le cose troppo esagerate, e poi c'era questa magliettina spiritosa da pirata, appunto sono queste magliettine diciamo da mettere un po' così tutti i giorni, non sono magliette per occasioni particolari, poi acquisti vari, allora il cotone è ottimo, ho preso questi body da bimba, 3 mesi, perché comunque la mia bambina adesso indossa questi, e adesso li sto distruggendo, sono molto morbidi, e comunque sono anche carini, perché hanno la manica corta, e hanno sempre dei disegnini, sono misti, vedete, 3 con i disegni, e 2 tinta unita, e comunque hanno dei vari colori, e si possono avvinare ai vari abitini, poi era in offerta, mi piaceva tantissimo, l'ho preso diciamo per la crescita, quindi per l'anno della bambina, questo maglioncino felpato, con i leggings, quindi è un abitino diciamo con i leggings, questo arriva da Allegri Briganti, e l'ho pagato penso sui 10 euro, carinissimo, proprio morbido, e molto 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 bello, e invece sempre su Allegri Briganti ho preso questo, abitino da bimba, questo è un 6 mesi, sì un 6-9 mesi, e ha sotto il pantaloncino bianco che ho dovuto lavare, perché purtroppo aprendo il pacchetto si è macchiato, e comunque ha sotto un pantaloncino bianco semplice, un po' palloncino diciamo, tipo copripannolino insomma, poi, sempre per avere un po' di cambi di body ho preso questi da Obaibi, dove compro tantissimo, questi però costano 11,95, mentre quegli altri che avete visto mi sembra che costino sui 6-7 euro la confezione, poi, scorta di calzini, calzini da bimbo, questi con il cagnolino, così, con gli occhiali, quindi questi sono, diciamo, per questo periodo poi saranno già un po' pesanti, e poi questi, tanto li sfrutta adesso, e quelli un po' più lunghi che li sfrutterà comunque a settembre, questi sono calzedonia, poi sono andata da H&M, e ho preso questo pigiamino da bimba, costa 14,95, sono 4 pezzi, questa magliettina con questo pantaloncino rosa, e poi questa magliettina con questo pantaloncino, ovviamente sono, diciamo, anche intercambiabili, e mi piacciono tantissimo, il cotone è morbido, li avevo presi anche per il bimbo e li ho sfruttati tanto, ma questo è un acquisto per me, non c'entra niente, poi mi è arrivata tutta una serie di acquisti che ho fatto da Obaibi, però online, perché c'era un'offerta, se non ricordo male, su Privalia, solo perché sono tutti chiusi adesso, allora, vediamo un attimo, ve li mostro velocemente, allora, maglioncino in cotone, due anni, 14,95, penso di averlo pagato la metà, l'ho preso anche in questo colore, poi, ah no, aspettate, in questi tre colori, perché tanto è semplice, si può abbinare, insomma, a me piace anche acquistare così, un po' in serie, questo è Polo, da bimbo, in questi tre colori, ve li mostro una, mi spiace perché questa vendita è conclusa, e la volevo segnalare sul blog, ma non ho avuto proprio tempo, perché sono molto carini, in ogni caso, anche Obaibi, sia in negozio che online vende, spesso ci sono offerte, quindi se siete mamme e cercate, insomma, dei cambi a buon prezzo e di buona qualità per i vostri bimbi, tenete presente che, insomma, vi trovate qualcosa, questo rumore deve essere fastidiosissimo, però con due bimbi si è sempre di fretta, bene, allora, questo pigiamino era delizioso, allora, il negozio è 17,95, io penso che per l'ho pagato i suoi 10 euro, forse meno, con il pantaloncino, con la fascia, diciamo, e la magliettina, bellissimo, poi, vabbè, secondo me questo è uno stile che a me piace, insomma, a tanti mi piacciono di più altri brand, insomma, è molto subiettivo. Poi, sempre per la bimba, mi sono portata avanti con le cose sei mesi estive, quindi, tagliettina, faccio tutto quello che ho acquistato, non c'è scritto quanto ho speso, comunque questa è la borna. Allora, ho preso dei leggings tre e sei mesi, e li ho presi sei mesi viola, tre mesi arancioni, tre mesi beige, e poi di questo colore rosa. Ok, poi, il solito rumore è fortidiosissimo. Allora, una magliettina così, questa è sei mesi, sì, sei mesi, 3,95 euro, ma io penso di averla pagata forse un euro, due euro. Poi, un colore, diciamo, fucsia, anche per il fratello, dei anni, perché comunque io lo faccio portare senza problemi anche al bambino, abbinato ovviamente con abbigliamento maschile. Poi, altra magliettina per il bimbo, questa per questo periodo, aniche lunghe, un bel colore che mi piace moltissimo con la sua carnagione. Un giorno quando avrete due bimbi e pochissimo tempo capirete anche voi che ci vuole organizzazione, ma spesso non ci si riesce. Questo completino, sei mesi, con il pantaloncino corto, tipo pigiamino, però, insomma, va bene un po' per tutto. Io penso che glielo metterò anche per andare a mare. Altro completino, sempre per la bimba, sempre sei mesi, così, così. Mi piaceva tantissimo questo pantaloncino con il bottoncino e questo focchetto, così. Poi, quest'altro che è veramente bellissimo. Il negozio l'avrei pagato 20 euro, che non è nemmeno tantissimo, se vogliamo proprio vedere, però io l'ho trovato scontato. Questo pantalone delizioso, bellissimo, e questa magliettina da abbinare con lo stesso recamo. Poi, gli ultimi due, che sono, anche perché la memoria della fotocamera sta finendo, dovrei mettere ordine tra i vari video. Questo pigiamino, quindi pantaloncino corto e, appunto, pigiamino piccino, sei mesi, 9,95. Questo non costava molto nemmeno il negozio, comunque, appunto, io, avendolo preso online, l'ho pagato circa la metà. E quindi ho preso il doppio di cose che avrei acquistato normalmente, in pratica. E questo ultimo, che invece è da indossare in questo periodo, che è tre mesi, costava 27,95 ed è delizioso. Questa magliettina con questo pantaloncino, molto fresco, cioè, è proprio bello. Mi piace tantissimo, per un'uscita, insomma, niente di eccezionale, però. Quindi, questi sono tutti i miei acquisti velocissimi, in vari, appunto, in vari negozi, alcuni online. Ve li ho mostrati, così adesso li posso lavare e stirare tranquillamente. Sono degli spunti, delle idee. A me piace tantissimo vedere i video haul, sia per quanto riguarda acquisti, diciamo, per le mamme, che per i bimbi, perché trovo sempre tanti spunti carini. Questo è tutto, ci risentiamo presto, grazie per la pazienza. Ciao!